I nubi fragili, il vento fortissimo che ha scoperchiato case e abbattuto alberi e poi le grandinate come mai si era visto prima con chicchi grandi come palle da tennis che hanno devastato auto, tetti, pannelli, fotovoltaici, 313 comuni coinvolti e più di 100 le persone ferite. Ora tutti quei danni sono stati quantificati dalla regione Veneto. Un dossier molto nutrito di informazioni, di dati riguardo ovviamente tutto il Veneto, stiamo parlando di calamità dal 13 di luglio fino al 6 di agosto, ma parliamo anche di una cifra importante che riguarda oltre 70 mila famiglie e imprese e si parla di 1 miliardo 129 milioni di euro che arriverà tranquillamente a 1 miliardo e 3. Danni ingentissimi che ora rientrano nella relazione inviata al governo dalla regione Veneto per la richiesta dello stato di emergenza e di conseguenti risarcimenti e, sottolinea Zaia, i soldi bisogna che Roma ce li dia. Per la gestione delle pratiche il presidente del Veneto conta sui comuni. Da commissario ho sempre fatto questa scelta unica a livello nazionale di non gestire i soldi direttamente dalla struttura commissariale, quindi dalla regione, ma dare subito gli anticipi ai comuni e i comuni poi hanno i rapporti, i comuni sono efficientissimi e sono sempre stati collaborativi, avranno i rapporti diretti con i loro cittadini.